Otra caratteristica molto importante delle proteine è quella di avere un potere espumante. Che vuol dire espumante? Di creare una espuma. Sappiamo che sempre prendendo l'uovo, se io prendo la clara di uova e comincio a battere, che succede? Ela diventa una espuma. Ma io vado battendo, ma questa espuma cresce, a un determinato punto, crescerà e diventerà una espuma ben compatta. Por che? Perché la caratteristica, per esempio, di questa sostanza, di queste proteine, è quella di aumentare il suo volume. Ossia, si legare con il ar, creare una rete e crescere in volume. Quindi, caratteristica molto importante, nel nostro caso. Perchè? Perché vedremo che le proteine influenzano, sono loro che influenzano o che? Se il nostro cervello sarà più o meno alto. Especialmente se usiamo una produttura discontinua. Ripeto, in una produttura discontinua, oggi in dia, abbiamo la possibilità di scegliere quanto ar colocar dentro del nostro prodotto. Ma chi è lavorato con produttura discontinua, se vuole aumentare il suo volume, il suo overrun dentro del nostro prodotto, dentro del nostro servizio, dovrà aumentare le proteine.